Sono sempre più numerose le lamentele relative al servizio di somministrazione dell'ossigeno terapeutico. Avete pertanto scritto una lettera al manager, Salvatore Messina. Non solo al manager, ma anche all'assessore Massimo Russo, con cui mi sono appena incontrato. E ho preso spunto nello scrivere la lettera che adesso illustrerò, anche da alcune dichiarazioni francamente intollerabili, che si è permesso di rilasciare ad un giornale, ad una rivista regionale, l'ex manager Salvatore Olivieri. Olivieri dice, ho svolto un'azione di moralizzazione, trasparenza ed etichità del sistema e sfida chiunque a dimostrare che non sia vero. E ancora, dice che, poiché lui ha avuto il coraggio di spostare assi di abitudini e di malvezzi, vi è stato chi non ha gradito questo suo modo di operare trasparente ed efficiente e si è attivato per mandarlo via da Agrigento. Poiché mi sono attivato io per mandarlo via da Agrigento, con la complicità, tra virgolette, di Massimo Russo, io oggi ho voluto anche dare spazio alle proteste che ricevo dai cittadini, da un'altra cosa pessima che va addebitata a Olivieri, di cui fortunatamente ci siamo liberati. Normalmente chi fruisce dell'ossigeno a casa? Certamente non i giocatori delle squadre di calcio. Normalmente sono anziani, allettati, scarsamente ambulanti, che hanno bisogno dell'ossigeno per respirare. Prima come funzionava? Il medico di famiglia visitava l'anziano, prescriveva l'ossigeno, la farmacia immediatamente mandava il fornitore a casa dell'anziano con l'ossigeno. Tutto finiva lì, l'anziano veniva tutelato, non aveva bisogno di allontanarsi da casa, non vi erano trafile burocratiche. Abbiamo avuto una grande genialità. Si è dato, attraverso procedure che ora è necessario andare a visitare per capire quanto siano legittime, il monopolio ad un fornitore di ossigeno. Prima potevano fornirlo tutti quelli che ne erano dotati, ora abbiamo un monopolista. Questo monopolista come fornisce l'ossigeno? Attraverso una procedura che a me pare francamente folle. L'anziano deve recarsi, previa prescrizione al suo medico, da uno pneumologo dell'azienda sanitaria, deve farsi visitare periodicamente, poi deve recarsi presso un altro ufficio in un altro luogo. Prima va all'ex ospedale civile San Giovanni di Dio, poi deve andare a fare una trafila all'ex manicomio. e quindi, conclusa tutta questa bella trafila burocratica, che mediamente deve ripetersi ogni due mesi, può ottenere da questo fornitore monopolista l'ossigeno che paga l'azienda sanitaria. Ora, tutto questo che utilità ha per il malato e per il cittadino? Il malato non può uscire da casa e deve invece uscire per andarsi a fare visitare. Il malato non può deambulare, non può muoversi e deve andare a fare addirittura due file una volta ogni due mesi o pregare un congiunto a fare la fila per lui. Tutto questo mi pare l'esatto contrario dell'efficienza, della trasparenza, della buona amministrazione che deve garantire il diritto alla salute. Allora io chiedo al commissario straordinario, all'assessore Massimo Russo, quest'ultimo assieme al commissario hanno già acquisito tanti meriti innanzi agli agrigentini, di mettere mano a questa vicenda, di ripristinare il vecchio sistema che era efficace e che non faceva lamentare nessun anziano e di dare un taglio con queste e altre prassi e decisioni pessime che sono state assunte dall'ex manager Olivieri e ringraziamo il cielo che ce ne siamo liberati.